Sapevo che era successo qualcosa a Pietro. Un militare me l'ha appena riferito. Umberto e Cristiano sono stati trovati morti nella diga. Anna, guarda che ti ho portato. Grazie. Sei bene? Sì, tutto bene. Vuoi che ripassiamo? Non serve, mi ero bloccata. Anna, dirò a modo mio e basta. A modo tuo? Qua non si tratta di dire la battuta a modo tuo. Qua si tratta di dire la battuta tale e quale. E poi se no restiamo qui fino a domani. Io ho un concerto alle 20. Beh, io voglio farla bene. Voglio risultare naturale. Anna, mi piaci molto davvero. Vedi, mi piacerebbe se tu restassi qui con un ruolo fisso, come me. Sai chi è il protagonista di Ponte Vecchio? Ponte Vecchio. Qui non interessa nessuno se io e te facciamo la battuta bene o male. Qui si tratta di fare una serie. La serie più seguita è la sua fascia. Se non ci credi, vai in Spagna e chiedi. Quindi ora vai là dentro e ti la toa cazzo di battuta. E poi ti do un'altra dritta. Cerca di dare un po' d'aria alla battuta. Non so bene che cosa sia l'aria, ma mi piace tantissimo. Ti do questa dritta. Ok. Io presentivo ciò che è accaduto a Pietro, ma un ufficiale me l'ha appena riferito. Umberto e Cristiano sono stati trovati morti nella diga vetusta.